Buongiorno, eccoci qua per la seconda puntata della nostra conversazione con l'avvocato Luca Zitiello. Oggi tratteremo della seconda parte del Technical Advice dell'ESMA che riguarda la tematica delle informazioni sui costi e doneri. Allora io cercherò in modo telegrafico di presentare quelle che sono state le conclusioni che l'autority ha espresso in questo documento che sono riferiti ad alcuni punti che sono stati sollevati dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione. In primo luogo c'è il tema della richiesta che per investitori, clienti professionali e controparti qualificate si abbia un atteggiamento di maggiore tolleranza nella richiesta di optare per non ricevere queste informazioni. Allora su questo ESMA si dimostra aperta e sostanzialmente ritiene che almeno per i clienti professionali che più ci interessano possano essere fatte queste richieste di optare per non ricevere le informazioni purché questo si attui nei servizi diversi dal servizio di gestione e di consulenza in materia di investimenti. I punti successivi sono richiamare il fatto che alcune delle risposte date nel documento di question and answer che nel tempo si sta sviluppando sui temi della protezione degli investitori alcune di queste domande siano recepite nel regolamento delegato di attuazione di MIFI 2 in particolare per quanto riguarda il livello di aggregazione delle informazioni ex ante sui costi e oneri e anche sulle informazioni ex post da fornire nell'ambito anche delle servizi di gestione patrimoniale. Sostanzialmente ESMA ritiene che nelle informazioni ex post oltre ai costi totali del servizio e dei prodotti gli intermediari debbano fornire informazioni più dettagliate a livello di singolo housing quindi per poter fare in modo che i clienti comprendano la composizione dei costi e l'attribuzione dei costi totali ai singoli prodotti finanziari. Un altro tema che viene toccato da ESMA è l'equiparazione di tutti i prodotti di investimento ha la stessa informativa sui costi e oneri ex ante ed ex post soprattutto per quanto riguarda i prodotti cosiddetti non mifidi in particolare i prodotti assicurativi che secondo ESMA devono subire lo stesso trattamento di trasparenza per quanto riguarda l'informazione sui costi ed oneri. Un altro tema è quello del supporto in cui vengono fornite le informazioni ESMA in questo caso chiarisce in modo interessante che la comunicazione informatica telematica delle rendicontazioni debba diventare un'opzione di base e quindi debba essere salvo naturalmente rispettare tutte le norme di sicurezza debba diventare l'opzione standard per la diffusione di queste informazioni. Accanto a queste prese di posizione ci sono alcune cose che naturalmente sentiremo anche l'opinione dell'Avvocato Zitiello ma ci sono alcune cose che invece mancano nelle risposte che ESMA avrebbe dovuto fornire un po' perché ritiene che ancora non ci siano dati sufficienti per elaborare una presa di posizione definitiva come nel caso ad esempio dell'impatto dei costi sul rendimento che è un'informazione per ESMA essenziale ma ancora non se la sente di prendere una posizione definitiva sulle modalità e le tipologie di questa informazione. Altri elementi che riguardano per esempio nelle informazioni exante la durata del periodo di riferimento per il calcolo dei costi exante si ritiene che sia necessario un allineamento con il regolamento PRIPS che del resto è in consultazione. Io ho terminato la mia prima esposizione dei contenuti di questo documento e lascio la parola all'Avvocato Luca Zitiello. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti su questa seconda puntata che appunto come diceva Massimo riguarda costi e oneri. Alcune osservazioni, alcuni commenti. L'ESMA sostanzialmente dice che è favorevole a una flessibilità con riferimento alle controparti qualificate e agli investitori professionali. Naturalmente in maniera diversificata controparti professionali possono sostanzialmente fare l'opt out e possono non vedere applicato questi requisiti mentre i professionali possono fare l'opt out con riferimento ai servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione. Qui poi però il tema particolarmente interessante è che ESMA si pronuncia sul fatto se sia o no opportuna l'introduzione di una categoria intermedia cioè dei cosiddetti clienti semiprofessionali. Fondamentalmente ESMA su questo punto esprime un'opinione negativa non transcian ma negativa dicendo a questi fini, cioè costi e oneri io non ritengo perché comunque la regolamentazione già prevede una segmentazione per figure professionali su richiesta e professionali di diritto e controparti qualificate e quindi non vedo in questo momento uno spazio però non chiude totalmente la porta dicendo che però un maggiore approfondimento dovrebbe essere fatto con un'opportuna consultazione in merito. Qui c'è da dire anche a livello più generale che non c'è purtroppo una grandissima correlazione e coordinamento fra questa opinion data da ESMA nell'ambito di Mifid Review e il lavoro che sta facendo la Commissione con il questionario. Non c'è su questo punto e non c'è soprattutto sulla parte cost and charges perché come veniva giustamente riferito la ESMA su tante parti di un punto così scabroso come cost and charges prende tempo in parte dicendo che bisogna aspettare la regolamentazione PRIPS l'evoluzione della PRIPS Review in parte dicendo che dovrebbe essere fatta un opportuno approfondimento attraverso una consultazione però poi nel questionario della Commissione europea non troviamo domande pregnanti su questi punti e questo oggettivamente è un peccato. ESMA però si pronuncia favorevolmente su un punto specifico e delicato che è quello dell'armonizzazione propende fortemente che ci sia una armonizzazione dei criteri a livello europeo. Questa nota è particolarmente importante se si confronta con la situazione italiana del momento dove c'è ancora pendente una bozza di raccomandazione con subemanata proprio per cercare di omogenizzare le modalità di trasparenza dei requisiti ex post di Cost and Charges in presenza di una raccomandazione di ESMA che dice no, attenzione, queste cose vanno stabilite in maniera rigorosa per garantire la concorrenza e competitività a livello europeo. Come dire, opinione che credo sia sicuramente da sposare il problema è mettersi d'accordo però sui criteri in maniera efficiente e in maniera tempestiva. La cosa positiva è che ESMA dice incorporiamo già nella regolamentazione alcune risposte che io ho dato nelle Q&A il resto lo stabiliamo per regolamento quindi attraverso una consultazione che porti a mettersi d'accordo su quali siano queste regole perché quello che emerge a livello europeo è il tema del cost and return cioè dei costi sul rendimento è quanto mai esplicativo non vi è assolutamente armonizzazione nella rappresentazione di questi criteri ahimè né l'ESMA però su questo punto è in grado di fornirli dispiace un po' perché l'ESMA invece è proprio l'organo più competente anche tecnicamente più preparato per fornire questo supporto. Bene grazie grazie naturalmente Luca speriamo di avere dato un'utile informazione per quanto riguarda questo tecnica lo vai dell'ESMA e ci rivediamo magari in qualche altra occasione di approfondimento. Grazie a tutti Arrivederci Arrivederci Grazie